BOOM! Quindi, si è clinch, cambio. Dal gomido, passo la 2, questa va sul gomido qua. Adesso guardate, va, lo passo dietro e faccio la staggamba avanti. Quindi, sto qui, cambio, faccio la staggamba avanti, spazio. Ok? Posso mettere qui? Ok. Uno. Io voglio solo ritardo. Io, intanto superi, ho uno spazio in uno. Uno. Esatto. Quindi è basso e spazio. Basso e spazio. Ok? Uno, due, due. Tiro e basso. Ok? Provate, spagna presa.